Mentre i nostri soldati già combattono sul fronte russo, continuano ad affluire le truppe a rinforzare il nostro corpo di spedizione. In tutti i paesi attraversati, le truppe italiane ricevono le più cordiali accoglienze. Il saluto delle autorità militari ungheresi. Alla stazione di Raco, Budapest, dove la regia legazione e il fascio italiano hanno organizzato un servizio di assistenza, le truppe ricevono il saluto del ministro d'Italia. Tra le autorità è il nunzio apostolico di un signor Rotta. Il territorio russo, nella zona di concentramento. La distribuzione dei giornali e del bollettino. La distribuzione dei giornali e del fatto di un signor Rotta, Prima di raggiungere le prime linee il comandante del corpo di spedizione generale Messe passa in rivista i reparti e tiene rapporto agli ufficiali. Grazie per la visione!